L'hai visto il football che è tornato per esempio nel campionato tedesco? L'hai visto il campionato tedesco? Il campionato tedesco è bielorussio, Bobo, Bobo, il Borussia Dortmund, Bobo, Bobo, seguimi, seguimi, il modello, il modello, è il Borussia Dortmund, è ormai il modello del calcio europeo, cioè giovani, giovani, seguimi, giovani, corrono, hanno voglia giovani, tipo Jadon Sancho per esempio, o Holland, insomma tutti parlano di Holland, no? Oh, Bobo, 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 giovani, scuola, calcio, Borussia Dortmund, che diventano la prima linea, perché questa è la storia del football, quando tu parti dal potrero, dal campetto di periferia, e dopo l'università del calcio vai in prima linea, Bobo, seguimi, seguimi, questo ti interessa, tu, Bobo, Bobo, tu devi vedere per esempio il Borussia Dortmund, il Borussia Montengladbach, queste sono le partite, è vero? L'hai vista le partite, Bobo, tu lo sai, tu, tu lo conosci bene, eh, tu lo conosci bene, Bobo, tu, come facevi tu, lo fanno anche loro, con lo stesso, con la stessa mentalità, perché il calcio è una filosofia, ma è anche una religione, Bobo, è anche una religione. Grazie.